PEGI 16 Catene! Per secoli ci hanno vincolato! Siamo divenuti burattini dei nostri stessi congeni! Adesso è finita! L'oscurità è tra noi! Siamo tutti quanti in grave pericolo! La mia razza deve sopravvivere! Per favore, mandate aiuto! Da dove viene quel segnale? Da qui! Più roba! Aspetta! Vecchia Amiga! Questi poteri ti stanno cambiando! La presenza di Eramis su Europa non è neanche così! Possessione è la spinta a qui! I nostri nemici nulla potranno contro questo potere! La grande macchina finalmente conoscerà il nostro dolore! Lo che Naglio è la forte! La franklyzione è la piatta di Eramis su Europa non è un'espatita! La prima macchina è la piatta di Eramis su Europa non è una piatta di Eramis su Europa! Qui ha quella di Eramis su Europa non è il'e alozo di Eramis su Europa! No... Da dove viene! playstation